bella rega qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video mica tanto e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi porto ragazzi un riposte di questo glitch visto che vi ho portato nel metodo per prendere il carretto come mio dare il come to come non mi fracassate ragazzi questo glitch esiste da quando è nato gta praticamente requisiti ci servirà il carretto già moddato all'interno del bunker link in descrizione e qui in alto a destra per come prendere il carretto raga dopodiché una volta che abbiamo anche il com all'interno del bunker ci dirigiamo qua dallo scienziato pazzo e andiamo a modificare il nostro centro operativo mobile morale della favola non ve lo sto a spiegare come i bambini perché è veramente il glitch più stupido che esista raga andate su verniciature e mettete sul primario e sul secondario il classico nero carbonio sia alla motrice e sia al rimorchio del centro operativo mobile ok a questo punto una volta fatto ciò raga dovremmo passare al carretto antiaereo allora una volta che siamo sul carretto antiaereo ragazzi dovremo semplicemente andare su armi e una volta che siamo su armi andare a selezionare un altro tipo di armi diversa se come me come ben vedete in questo momento ci sono i lucchetti non ve ne frega niente raga spammate un paio di volte su cannoni e su batteria e vedrete che il glitch funziona ugualmente a questo punto due volte b o cerchio e in questa schermata conosciamo la selezione dei due mezzi raga start online trova nuova sessione ad amici chiusa a questo punto una volta che caricheremo la sessione ad amici chiusa raga possiamo fare sbada bam ragazzi uno dei glitch più stupidi e facili della storia di gta 5 online come moddare il com quindi a questo punto ragazzi io adesso vi faccio vedere lo modificherò tutto non mi piace il rosso ci andrò a mettere il colore più che mi piace di più con l'abbinamento di questi cerchi ringrazio intanto giuse per avermi passato il carretto e aver riportato questo video anche se è un repost raga ve lo ripeto e niente che dire quindi lasciate un like lasciate un commento supporto e stavics supportato del canale supporto delle ma grandissime se volete abbonare alla prossima ciao